Salve spettatori! Benvenuti sul mio canale! Oggi condividerò un nuovo video per voi. Non dimenticare di iscriverti al mio canale e supportarci per le fonti delle notizie e gli ultimi post. Ora passiamo al video del liceo Tagba Buyukustun e Engin Akurek. Tagba Buyukustun e Engin Akurek, uno degli attori turchi più amati e di successo, continuano ad attirare l'attenzione non solo con le loro esibizioni e carriere professionali, ma anche con la loro vita privata. I famosi attori Tuba Buyukustun e Engin Akurek, che hanno un'enorme base di fan, dimostrano di essere una coppia armoniosa sia sul palco che nella vita privata. Siamo entrati nel mondo della televisione con Tuba Buyukustun e Engin Akgul. E da allora hanno fatto grandi sforzi. Le due famose strade si sono incrociate nel 2011 nella serie Black Money Love. La serie è stata sia un punto di svolta nella loro carriera che l'inizio del loro incontro. Mentre Tuba Buyukustun ha conquistato il cuore del pubblico con il suo ruolo di beater, la performance di Engin Akurek ha fatto un grande passo avanti. Tuba Buyukustun e Engin Akurek, chiamati Money Money Love, hanno firmato separatamente grandi progetti. Tuba Buyukustun ha ricevuto numerosi premi e onorificenze nel corso della sua carriera. Grazie alle sue interpretazioni in serie tv come, Brave and Beautiful, per 20 minuti. E con la sua interpretazione di successo nella produzione del tuo nome come Engin Akurek e Black Money Love Fatma Gul. Allo stesso modo, Engin Akachak ha vinto molti premi per la sua interpretazione. Che è stata apprezzata dalla critica e dal pubblico. La vita privata di Tuba Buyukustun e Engin Akurek è tra i temi seguiti da vicino dai media. Gli attori rimangono collegati nelle loro carriere.